Ciao a tutti, sono Andrea Laurini, dottorando in Fisica Sperimentale presso l'Università degli Studi di Siena. In questo video vi parlerò un po' dei raggi cosmici, in particolare delle sorgenti astrofisiche in grado di generarli. Sono molto felice in questo modo di partecipare all'evento Notte dei Ricercatori 2020, che purtroppo, per ovvi motivi, quest'anno non potrà essere svolto in presenza, ma si svolgerà in modalità telematica. Ma, nonostante questo, sono convinto che l'interesse verso questi argomenti risulti del tutto inalterato. Innanzitutto, cosa sono i raggi cosmici? Come ha già avuto modo di trattare in un altro video il dottorando Lorenzo Bellizzi, possiamo definirli come particelle molto energetiche di origine extraterrestre che di continuo bombardano il nostro pianeta. Possiamo vedere che presentano un flusso che l'energia è a legge di potenza, un indice negativo, e che presenta due punti in cui cambia pendenza, che sono noti come ginocchio e caviglia. Essendo particelle molto energetiche, proverranno da sorgenti che presentano meccanismi estremi, tali da imprimere loro una grande accelerazione, farli percorrere distanze cosmiche prima di giungere fino a noi. Le tipiche sorgenti di queste particelle, escludendo i venti stellari che sono emissioni di particelle legate alla normale attività stellare, come presenta appunto il nostro Sole, che influenzano il settore a più bassa energia del flusso che vediamo, possiamo dividerle in galattiche che sono poste all'interno della nostra galassia, tipicamente supernove e pulsare, oppure strgalattiche, cioè poste al di fuori della nostra galassia, che sono principalmente nuclei galattici attivi e gramma rebasta. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Le supernove sono gigantesche esplosioni con cui le stelle particolarmente massicce concludono la propria esistenza. Questo perché vengono meno le reazioni termonucleare all'interno del nuovo nucleo che danno equilibrio e sostegno alla stella. Quindi avviene un collasso degli strati più esterni che rimbalzando su un nucleo compatto vengono poi dispersi nello spazio circostante a grande velocità. In questi processi viene liberato un ammontare di energia che è dell'ordine di, pensate, 10 a 51 Hz. Una quantità impressionante perché pensate che è un 1 seguito da ben 51 0. Anche se in realtà bisogna dire che l'energia rilasciata sotto forma ai neutrini è 100 volte pari a questa quantità. Il meccanismo con cui le particelle vengono accelerate nel supernove fa riferimento all'onda d'urto che investe le particelle, a cui si aggiunge anche il meccanismo di accelerazione di femmi, quello proposto dallo stesso Enrico Femmi nel 1949 che fa riferimento alla successiva riflessione delle particelle cariche all'interno di nuvi magnetizzate, modello che è stato successivamente ampliato. Le pulsar sono stelle di neutroni che sono un residuo molto compatto e denso di stelle che sono esplose in supernove e che avevano una massa talmente elevata che il loro nucleo è poi collassato. Sono oggetti molto densi e compatti e che hanno un raggio dell'ordine di soli 10 km. Quindi per questioni legate alla conservazione del flusso magnetico e del momento angolare presentano campi magnetici davvero molto intensi e una rapidissima rotazione intorno al proprio asse che ha un periodo pensate anche dell'ordine del millisecondo. Questi due fattori legati insieme, ovvero campo magnetico intenso e rapidissima rotazione, sono all'origine di un campo elettrico tale da far accelerare le particelle cariche fino a grande distanza. Inoltre sono anche all'origine, come possiamo vedere dall'animazione nella parte bassa di questa slide, di un segnale pulsato che è estremamente regolare, tanto da essere considerato uno degli orologi più precisi che abbia l'universo. Passando alle sorgenti estragalattiche, citiamo i nuclei galattici attivi che sono nuclei di particolari galassie che presentano un'emissione molto più ingente rispetto a quelle ordinarie e questo è imputabile all'accrescimento di materia su un buco nero supermassiccio che in realtà riteniamo proprio il centro di ogni galassia e che ha dimensioni comparabili con la distanza media tra la Terra e il Sole e masse pensate fino a milioni o addirittura miliardi di masse solari. Esiste un modello unificato che spiega simili oggetti e che prevede che al loro centro nei pressi del buco nero ci sia un disco in rotazione molto caldo capace di ionizzare a differente grado l'ambiente circostante, più all'esterno si trova un toro di grassi e polveri che oscura parte della radiazione proveniente dall'interno e in più abbiamo dei getti che sono fatti di plasma quindi di particelle relativistiche che sono praticamente hanno raggiunto la velocità di fura dal buco nero supermassiccio e vengono letteralmente sparate lungo l'asse di rotazione del disco stesso. Abbiamo poi il gamma Ray Buster che sono tra i fenomeni più transienti ma allo stesso tempo tra i più energetici dell'universo e sostanzialmente sono emissioni brevissime temporalmente parlando ma molto intense di raggi gamma che sono state scoperte per caso durante la guerra fredda avvengono in direzioni casuali nel cielo e le osserviamo con una media di almeno una al giorno. Si dividono gamma Ray Buster corti, quelli che durano meno di due secondi e si ritiene che siano dovuti alla coalescenza di due oggetti compatti come per esempio due stelle di neutroni o un sistema binario stella di neutroni buco nero. Ci sono poi quelli lunghi che durano più di due secondi in realtà fino a qualche minuto che si pensa che siano attribuibili a ipernove ovvero supernove particolarmente potenti. Il modello con cui usualmente si spiegano gamma Ray Buster si chiama Fireball letteralmente palla di fuoco e prevede un meccanismo interno capace di generare onde relativistiche in successione che interagiscono sia tra loro che col mezzo circostante e questo dà a loro un'intensa emissione di raggi gamma che in realtà si presenta collimata. Segue una fase di afterglow che è una successiva fase in cui viene emessa radiazione di sempre minore energia. I raggi cosmici ultraenergetici possono anche essere spiegati facendo ricorso a teorie che esulano dal modello standard come per esempio possiamo citare il decadimento secondo modelli top down di particolari particelle come per esempio supermassive in particolare supersimmetriche oppure da meccanismi che derivano da difetti topologici risalenti all'origine stessa dell'universo come per esempio monopoli magnetici oppure stringhe. Ma possono anche derivare da annichilazione di particelle di materia oscura una componente che forma si pensa almeno un quarto del contenuto di materia energia dell'universo ma che non sappiamo ancora bene di cosa sia fatta. Infine possono anche derivare da annichilazione di neutrini cosmici. In conclusione possiamo dire che studiare raggi cosmici è davvero affascinante perché prima di tutto è un'analisi di particelle molto energetiche a cui noi e il nostro pianeta siamo costantemente di continuo esposti ma in più ci permette di ricavare informazioni anche sulle sorgenti e sul mezzo interposto perché a seconda che i raggi cosmici siamo carichi o no interagiscono col mezzo interstellare in particolare col campo magnetico e quindi possono venire più o meno deviati durante il loro percorso. E inoltre possiamo dire che lo studio dei raggi cosmici è tuttora in corso perché energie particolarmente elevate non siamo ancora sicuri di quali siano le vere sorgenti capaci di generarli. E inoltre studiare l'universo ad alta energia vuol dire anche scoprire, aprire nuovi orizzonti e quindi scoprire nuove teorie rispetto a quelle comunemente accettate nella fisica standard. Inoltre dobbiamo aggiungere che di recente si è anche aggiunta la cosiddetta astrofisica multimessaggera che consente di studiare vari fenomeni e le interazioni in tutte le bande dello spettro elettromagnetico e questo unito alla rilevazione di neutrini e anche delle onde gravitazionali che sono state giusto da qualche anno scoperte. Quindi tutti questi elementi messi insieme ci daranno sicuramente un'informazione più completa sui fenomeni dell'universo. Vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione, spero che questo video vi sia piaciuto anche se era solo un assaggio di quello che si può dire sui raggi cosmici e sui loro sorgenti. Se avete dei dubbi o necessitate di ulteriori approfondimenti non esitate a venirci a trovare nel nostro dipartimento oppure di contattarci e saremo lieti di darvi ulteriori spiegazioni al riguardo. Detto questo vi ringrazio di nuovo, buon proseguimento per tutto e ovviamente buonanotte dei ricercatori. Ciao ciao!